Io volevo farvi notare una cosa, questa è una foto ripresa dalla zona del Passochiede dove stanno costruendo la 35 Terre di Steggiovi, cioè quella bretella che unisce la zona di Serravalle con Novi. Questa è una foto di una giornata di lavoro dove si può vedere alcuni semplici camion che operano, alcune macchine che operano lungo il percorso a chilometri di distanza, guardate che polverone che prendono. Tenuto conto che nel Novese, comunque in tutta la nostra area, sia da voltaggio, qua a Serravalle, il vento tira da Genova per 200 giorni all'anno, immaginate cosa può succedere quando ci saranno tutti i cantieri aperti, non solo dalla polvere, ma con tutti i materiali di costruzione, del cemento, potenziale amianto che verrà estratto dal punicolo che vorrebbero fare. Quindi immaginate il polverone che costantemente avremo, potremmo avere su tutta l'area del Novese, tutta l'area dell'Alessandria, perché il vento poi porta fino ad Alessandria, quando tira, veramente copre un'area all'Insa. Quindi questo è un piccolo esempio di quello che potrebbe succedere. Grazie.